No, prima fila, noi fersi. Mettiamo dietro il sistema all'ora, noi vediamo il vero. Siamo un po' collaterali. Un urlo di guerra no, eh? Nessuno fa un urlo di guerra? No, sta registrando? Ma non c'è bisogno, non posso lasciare tutta la mamma. Tanto abbiamo capito che andiamo in guerra, mi pare. Dietro in linea con... Dietro!